Musica Allievi ufficiali del 121esimo corso Zanzur IV e del 20esimo corso Lupo, lo giurate voi? Lo giuro! Siamo pronti ad avanti, l'Italia chiamò sempre! Di allocare tutti i corsi d'accademia in questa meravigliosa struttura. Un attenzioso saluto poi ai direttori dei nostri capiti, qui convenuti da Olimpato d'Italia. Siamo rivolgendo a tutti voi il portale a saluto a nome del governo, il mio personale. Dedico un saluto speciale ai protagonisti di questa giornata, negli ufficiali del 122esimo corso Zanzur IV e del 20esimo corso Lupo, arrivati al piano nazionale di ripresa e resilienza, devono ancora realizzarsi. ...e dei giovani talenti il completamento di una prima tappa del percorso cronativo. E rappresenta i nostri modi per osservare la verità, la realtà, la progressione... ...dipendimento! Ehi! Ora! ... ... ... non c'era prima che anche le indagini in futuro saranno sempre più tecnologiche Questo sicuramente sì perché ovviamente economia e finanza sono le avanguardie della modernità sotto certi profili perché ovviamente sfruttano in tempo reale le innovazioni tecnologiche.